Un fiume in piena, rimosso dall'incarico di assessore al comune di Avellino, Leandro Vittorio Savio convoca la stampa per spiegare la sua verità su quanto accaduto. L'ormai ex delegato ai fondi europei, alla programmazione strategica, alle attività produttive, al commercio e allo sport, ripercorre i pochi mesi trascorsi in seno alla giunta del comune capoluogo, lamentando ostruzionismo da parte della sindaca e dei consiglieri comunali, infastiditi dal suo attivismo. Savio sottolinea inoltre che nessuno aveva parlato di incarico a termine, tanto meno con una scadenza così breve che rende impossibile a chiunque mettere in atto una programmazione strategica. L'ex assessore si dice pronto ad impugnare la revoca, chiarendogli non essere stato indicato da Petitto né di essere di forza Italia, bensì vicino a Fratelli d'Italia. Io non capisco perché sono stato chiamato qua, perché chi fa progettazione, chi fa programmazione non la fa in uno spazio temporale di tre mesi, ma ho bisogno veramente di tempo, ho tutti i bisogni di tempo e lo stesso vale anche per qualche altro assessore. Questa situazione secondo me non capisco se è una situazione politica. Mi vedono collegato a Petitto al consigliere regionale, non è veramente così, perché alla fine sanno tutti perfettamente la mia provenienza, soprattutto io vengo qui per competenze e non per ragioni politiche. Ci sono state altre problematiche, potrebbe essere anche quello. Io mi ritengo una persona che in ogni caso rispetta le regole, ma soprattutto rispetta le istituzioni e soprattutto è sempre a disposizione di chiunque della magistratura mi possa chiedere informazioni. Nessuno mi può dire cosa fare e cosa non fare. Io onestamente ho visto depotenziato la mia funzione. Se io vengo qui all'Avellino e nel mio curriculum, che viene sbandierato in Consiglio Comunale, vengo presentato come esperto di PNRR, io credo che le PNRR dovrei farlo io, non vedo la necessità perché debba farlo un altro assessore dei lavori pubblici. Quando inizio a muovermi per far sì che il PNRR della città di Avellino potesse avere dei risultati, a me è stato detto che andavo troppo veloce, ero troppo tecnico. Ma la cosa ancora più importante è che dovete sapere che nel PNRR, e io ho prove che di questo viene fatto, ha necessità affinché vengono rinnovati eventuali successivi finanziamenti un'adeguata pubblicità. Il PNRR di Avellino sapete qual è? C'è un sito? Io avevo fatto il sito, avevamo presentato le schede tecniche con il mio ufficio di persone valide ed eravamo pronti a pubblicare tutto il PNRR della città di Avellino.